Ennesima vittima del mesotelioma pleurico a Casale. Ieri è deceduto Maurizio Cucchi, 60 anni, titolare della Cucchi Pneus. L'uomo era molto conosciuto nel mondo del basket Monferrino, in quanto era stato giocatore della junior Casale Basket e grande tifoso dei Rosso Blu. Sono 40 i ragazzi che parteciperanno domani alla Scuola di Ciclismo dei Campionissimi a Novi Ligure. Come per gli anni precedenti, il corso si svolgerà in due turni, nelle settimane che vanno dal 12 al 18 e dal 19 al 25 giugno. Una particolarità dell'edizione 2011 consiste nella forma di ospitalità offerte ai ragazzi. Quest'anno, infatti, sarà allestito un campeggio nella struttura polifunzionale di ACOS e gestione acqua SPA, dove si svolgeranno il pernottamento e le attività di mensa, intrattenimento e svago. Il corso, oltre al ciclismo, prevede anche altre attività sportive e visite al Parco Novi Avventura e alle strutture Ovo Center e Ors Ball di Novi Ligure. Da domani entra in vigore il nuovo orario estivo dei treni. Piccole novità riguarderanno la linea Mortara-Milano-Alessandria. Le fermate di Milano-San Cristoforo e Albairate-Vermezzo verranno eliminate, velocizzando leggermente la tratta. Da Mortara-Adlessandria, nelle fasce orarie del mattino e della sera, ci saranno due treni ogni ora, mentre nelle altre fasce orarie e nelle giornate festive ci sarà solo un treno all'ora. Torna in cittadella la San Giorgio Cavalli. L'evento ipico di portata internazionale ha preso il via venerdì scorso e si protrarrà ancora per due weekend. Domani la fortezza militare farà da cornice al primo concorso ipico internazionale città di Alessandria. A contendersi il titolo, anche il tedesco Ulrich Kirchhoff, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, e i campioni italiani Roberto Arrioldo e Giuseppe Donofrio. Il miglior cavaliere della competizione potrà freggiarsi anche di un premio speciale, una coppa donata dal presidente Giorgio Napolitano. Il concorso ipico internazionale ha ottenuto infatti l'alto patronato della Repubblica. Le competizioni proseguiranno poi il prossimo weekend, dal 17 al 19 giugno, con il primo concorso ipico nazionale Poni e la Coppa Italia. Nel fine settimana di chiusura, dal 23 al 26, la cittadella farà infine da cornice al concorso nazionale 4 stelle città di Alessandria. E passiamo ora ad alcuni appuntamenti per domani. A Casale Monferrato, all'interno del mercato Pavia, in piazza Castello, torna la fiera mensile di antiquariato e collezionismo. A Quarniento appuntamento con la Sagra della Spiga d'Oro. Nella suggestiva piazza Primo Maggio, otto proloco presentano le proprie specialità. I visitatori potranno degustare i migliori piatti tipici della tradizione piemontese abbinati ai vini locali. A Pasturana si tiene la non edizione di arte birra a Pasturana. Nel complesso sportivo si potranno degustare le migliori birre artigianali alla spina provenienti dai migliori micro birrifici italiani. Ed infine a Tortona torna nell'area dell'ex mercato coperto in piazza Milano il Bull Festival. Il programma della manifestazione prevede stand di eccellenza del Made in Italy e dell'artigianato, tornei di toro meccanico, degustazioni di manzo alla brace e serate dedicate alla musica country e western. E per oggi da Alessandria è tutto. Grazie per averci seguito. La linea torna allo studio.